C'è il pleniluno. Guardatevi dalla luna. Hai sentito? Ho sentito. Che poteva essere? Un coyote? Non ci sono coyote in Inghilterra. Ma che è successo? Secondo i primi dati sono stati aggrediti da un maniaco. Doveva essere molto forte. Che cosa ha detto esattamente? Ha detto Jack. Jack Goodman, il ragazzo che è morto. Non era un maniaco. Come ha detto? Era un animale. Un lupo. Ha detto un lupo. Con il tempo ti ricorderai tutto, vedrai. No, la mia memoria funziona bene, dottore. È la mia mente che comincia a preoccuparmi. Signor Kessler, provi ad aprire gli occhi. Il mio amico Jack è stato qui. È il tuo amico morto, Jack. Ciao, David. Ci aggrediti un lupo mannaro. Io sono morto. E sono costretto a vagare su questa terra. Finché la maledizione graverà su di me. La linea di sangue deve essere spezzata a qualunque costo. Ti senti bene, vero? Non lo so. Lo saprò al primo plenilugio. Sono un lupo mannaro. Domani notte è luna piena. Tu cambierai, David. Tu diventerai rosso. No, non lo so. Un mostro. Devi ucciderti prima, David. David, ti prego, si irrazionale. Sono un lupo mannaro. David, cerca di vagare. Devi stare lontano, David. David, io posso aiutarti. No. Ti prego. Arrete.